Il sindaco di Pordenone ha ricevuto questa mattina in municipio l'ambasciatore del Ghana, la signora Anita Evelyn Stocks-Eyford ed il console Charles Butt, accompagnati dal proprio seguito e dal presidente dell'associazione ganese locale Ajiman Badu. Nel corso del cordiale incontro, a cui hanno partecipato anche gli assessori comunali Flavio Moro e Vincenzo Romor, sono state affrontate tematiche legate agli aspetti sociali, economici e culturali della comunità e dei possibili interventi per favorire l'ulteriore integrazione. Il sindaco di Pordenone è Claudio Pedrotti. Abbiamo ricevuto l'ambasciatore ganese in Italia che ci ha onorato della sua presenza e si è fatta carico di stabilire sia un contatto diretto tra il comune di Pordenone e l'ambasciata, sia di rafforzare il legame che c'è da sempre tra la comunità ganese di questa città e l'amministrazione. È stato un incontro molto pratico, basato su indicazioni reciproche, su come migliorare l'integrazione, passando attraverso il fatto di fare dei corsi di lingua durante le ferie. La riunione quindi si è chiusa in un clima molto positivo, ci siamo dati appuntamento in marzo, quando verrà celebrata la festa nazionale ganese, che vedrà Pordenone uno dei punti significativi di queste celebrazioni e quindi l'invito reciproco è stato di avere un secondo incontro proprio per rafforzare ancora di più i nostri legami.